È stato pubblicato in questi giorni, presentato ieri, il secondo volume di un'opera immensa sulla storia di Spezia negli anni 60, 68 e 70, Un mondo nuovo, una speranza appena nata. Questo secondo volume inizia da quella che è stata una grande crisi di fine anni 60, che è la primavera di Praga. Cosa ha lasciato questo e cosa è accaduto a Spezia dopo questo evento? Il libro è fondato su 341 testimonianze, però non è la semplice raccolta di testimonianze. Le testimonianze sono frammenti integrati in una unica narrazione storica e poi il libro comprende anche molte immagini che fanno parte integrante della narrazione e molti documenti che sono studiati. E vengono affrontati tutti gli aspetti del decennio. Nel primo volume arriviamo fino al maggio 68, al maggio francese, alle ripercussioni nella nostra città. E poi nel secondo volume ora affrontiamo, appunto, come lei diceva, l'ultima parte del 68 e del 69. Quindi dalla primavera di Praga all'autunno caldo. La primavera di Praga fu molto dibattuta in città e l'invasione sovietica fu molto dibattuta e anche contrastata in città. Diciamo che era una generazione, quella giovanile di allora, complessivamente era una città che mai come allora discuteva di questioni nazionali e internazionali. Ecco, era una città globalizzata, Spezia. E si discusse molto e diciamo che il tema fu, c'è la crisi dell'America, quindi dell'anticomunismo, il Vietnam, ma c'è anche la crisi del comunismo, del socialismo reale, della Russia, con l'invasione di Praga. E quindi i giovani si mobilitarono, gli operai si mobilitarono anche per qualche cosa di nuovo rispetto a questi due sistemi che venivano visti entrambi come sistemi in crisi, con una certa omogenizzazione anche dei loro valori, da cui la ricerca di una via nuova, di un mondo nuovo. Protagonisti di quegli anni, sia nelle scuole che nelle fabbriche, sono stati gli studenti, nuovi protagonisti e gli operai. Sì, nel libro c'è la storia delle occupazioni delle scuole. Nel dicembre 1968 la Spezia è un po' un epicentro in Italia del movimento degli studenti medi. Il 68 italiano si differenzia dai 68 degli altri paesi perché ha come protagonisti non tanto e non solo gli studenti universitari, quanto gli studenti medi e gli operai. E quindi la Spezia, che pure non era una città universitaria, è protagonista del 68 italiano perché ha una forte rilevanza del movimento degli studenti medi e del movimento degli operai.